Ciao e bentornato su Impara da Vinci Resolve. Torniamo a parlare di audio e quindi di Fairlight andando a vedere come si può ricreare un effetto di moltiplicazione di speaking quindi di voci utilizzando il plugin Chorus di Fairlight stesso. Ma prima di continuare ti invito a cliccare sul pulsante iscriviti al canale e sulla campanella a destra per essere sempre avvisato su tutti i nuovi video che andremo a pubblicare. Torniamo a parlare di Fairlight. Parliamo di un effetto di modulazione che si chiama Chorus. Prendiamo ad esempio questa clip audio. Vogliamo creare un effetto di distorsione dovuto all'emulazione di più voci all'interno della clip stessa. Come prima cosa vado a selezionare tutta la mia clip. ok quindi in questo modo posso fare un play continuo di tutta la mia clip. Ti ricordo che il play si fa da playback, play around to, play in to out. In questo caso io gli ho assegnato uno shortcut personalizzato dato da F3. Adesso andiamo a vedere come andare a inserire un effetto quindi un plugin all'interno della clip o all'interno della traccia. All'interno della clip è molto facile. Prendo la mia clip, vado su effect library, vado a prendere un effetto che si chiama Chorus e lo trascino sulla clip. Adesso come possiamo vedere si apre un pannello per la gestione dell'effetto Chorus e sarà un po' l'argomento di questo tutorial. Noi l'effetto non lo troviamo sul mixer perché applicato sulla clip ma lo troviamo all'interno dell'inspector. Quindi seleziono la clip, vado sull'inspector e troverò l'effetto Chorus. Con tutti i suoi parametri gestibili tramite slider ma ancor meglio lo sarà gestirli tramite il pannello dedicato. Se adesso cancello il mio effetto e voglio applicare invece il Chorus su tutta la traccia, vado direttamente sul mixer, quindi chiudo l'effect library, vado sul mixer e vado a cliccare su plus, effect, in traccia A1 che è quella che mi interessa, vado su modulation e vado a prendere Chorus. E adesso stavo applicando l'effetto Chorus su tutta la traccia. Bene, adesso analizziamo quello che fa il Chorus. Come possiamo vedere in alto abbiamo i settaggi standard di tutti i plugin di Fairlight. In particolare se ho fatto le mie modifiche alla parametrizzazione dell'effetto posso salvare il mio preset oppure posso richiamare i preset già esistenti, quindi dramatic, large, mellow e wide dialog. Posso navigare tra i vari preset cliccando su queste frecce. Ad esempio andiamo a prendere una dramatic, questa linea orizzontale non rappresenta chiaramente le frequenze, le frequenze le vediamo qua, questa rappresenta il ritardo, la mia voce poi viene generata con un certo ritardo, con un altro ritardo, un altro ritardo, eccetera. Qui invece mi fa vedere come viene modulata la mia voce ma questo ci entreremo poi più in dettaglio. Quindi adesso proviamo a fare un play, quindi premiamo F3 che è il mio shortcut. Vedete che ottengo una modulazione della voce, quindi se accendo e spengo questa è senza l'effetto e questa è con l'effetto. sull'input format io posso scegliere se lavorare con il formato in ingresso in stereo, chiaramente questo solamente se ho un multichannel sulla sulla mia clip oppure inglobare insieme il canale destro e il canale sinistro, lavorare sul canale sinistro o sul canale destro. Adesso lasciamo stereo, visto che la nostra traccia è stereo, qua ho uno dei parametri più importanti, la delay time. Allora, proviamo a vedere cosa succede cambiando questo parametro. Prendiamo sempre lo shortcut per il play in to out. Vedete che in questo caso io sto diminuendo decisamente il ritardo nella generazione del chorus e lo vediamo anche da questo grafico. Se l'aumento, vedete l'effetto di eco viene enfatizzato. Veniamo alla parte di modulazione che è la parte che mi gestisce le oscillazioni sulle basse frequenze. Quindi vedete che ho una curva morbida o un degli andamenti più netti. Questa è ancora molto più netta e definita. Sentite i passaggi molto secchi sulla modulazione. Se scelgo quella morbida... Pitch rappresenta chiaramente l'entità della modulazione. Adesso sono a un valore massimo. se lo diminuisco... Vedete che la modulazione diminuisce. Lo vediamo dal di qua. L'entità della modulazione è più ampia o più bassa e lo vediamo direttamente da questo grafico. Emiliana Newton. Questo valore mi gestisce la frequenza, quindi la velocità della modulazione. Vedete che la frequenza aumenta. Lo guardiamo direttamente dal grafico sulla destra. La frequenza aumenta e così diminuisce. Adesso la teniamo... Ok, teniamola circa questo valore. I parametri importanti sono l'output dry e wet. Quindi io posso avere un segnale dry, quindi perfettamente piatto, pulito dal mio chorus. Quindi tenendolo al valore pari a zero... Vedete è completamente privo di chorus. Se aumento il dry, pian piano aggiungerò del chorus fino a sentire in wet solamente il chorus. Proviamo ad aumentarlo piano piano e vediamo l'effetto. Vedete adesso c'è un mix e piano piano sentirò solamente il chorus. Il level invece mi permette di gestire il livello dell'uscita perché applicando chiaramente questo effetto il livello viene alterato, quindi posso andarlo ad aggiustare tramite il level. Adesso magari è un po' troppo basso, lo posso magari alzare un po'. Quindi adesso noi, a seconda dell'effetto che vogliamo ottenere, possiamo giocare con i vari valori per ottenere un effetto che mi può interessare nel contesto del mio video. Quindi proviamo a giocare un po' con i parametri. Ok. You are in orbit of planet Q-465b. Philip's cryopod has lost power. His oxygen level is critical. This will significantly reduce your power reserves. You may not have enough to return to Solis. Are you sure? Ok. But you won't be able to correct your trajectory. Ok. The medical equipment is functioning properly. Ok. I did not eject any of the cryopods on the ship. I cannot explain this discrepancy. You and Philip Meder are the only people on the ship. Emiliana Newton. Yes. I cannot explain this discrepancy. Docking Bay 2. I'm sorry, I cannot open the doors to Docking Bay 2 while Philip Meder is inside. Noi adesso l'abbiamo applicato ad una voce e naturalmente si può applicare anche a qualsiasi altro suono. E gli effetti che si possono ottenere sono differenti a secondi dei settaggi che otteniamo sia sulla sezione della gestione del ritardo sulla modulazione e sia sull'output. Bene. Se hai delle domande in merito all'effetto chorus ti invito a farle qui nella sezione commenti di questo video. e noi ci vediamo domani per il prossimo tutorial all'interno di Impara DaVinci Resolve. Scu libri per 3 biscanria ellinger. Parola di Impara DaVinci Resolve e Grazie.